Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, fa crollare i mercati. Nell'ultima settimana l'S&P 500 cede il 4,5%, il Nasdaq cede quasi il 5%, alcuni settori come quello Energy in grave difficoltà sale praticamente solo il dollaro. Oggi facciamo chiarezza su cosa è successo e cerchiamo di immaginare cosa potrebbe accadere la prossima settimana per non farci cogliere di sorpresa. Iscrivetevi al canale se volete navigare al meglio il mare di incertezza che contraddistingue i mercati finanziari in questi giorni. Grazie. Allora io partirei dal dot plot della Fed, dot significa punto, quindi questi pallini gialli, plot, grafico. Ogni punto rappresenta l'aspettativa del tasso di brevissimo termine di ogni governatore delle banche centrali americane. Il punto mediano sarebbe l'aspettativa sul tasso in quell'anno lì. Questo è il dot plot di giugno. Per il 2022 il risultato mediano era sotto a 3,50, per il 2023 era sopra a 3,50. Ci sono tante osservazioni da fare, ad esempio quanto sono dispersi questi punti sul grafico. Ad esempio qui c'è uno che dice che secondo lui nel 2023 i tassi a brevissimo saranno sotto il 3%, mentre uno crede che saranno quasi a 4,50. A lungo termine uno pensa che saranno al 2, in media pensano che saranno a 2,5, quindi superiori al tasso di inflazione del 2%. Se non che dopo il meeting del 21 settembre, adesso per il 2022 i tassi a breve sono stimati attorno al 4,25, per il 2023 si dovrebbe salire. Qui non hanno neanche tracciato la mediana e la retta che congiunge la stima mediana. Addirittura qua c'è qualcuno che nel 2025 crede che i tassi a brevissimo saranno sopra al 4,5. Sul lungo pensano probabilmente che il tasso adeguato sia superiore al 2,5. Insomma la differenza è abbastanza importante rispetto a giugno. Non a caso per quanto riguarda l'obbligazionario, future continuo, scadenze 5 anni sul debito emesso dagli Stati Uniti, siamo a fare nuovi minimi rispetto a giugno. È chiaro che sono due cose un po' diverse, il rendimento del treasury e il tasso impostato dalla banca centrale. Però comunque ci sono logiche di mercato tale per cui a una scadenza superiore, teoricamente, qualora non vi dovessero essere delle inversioni di politica monetaria causate magari da una recessione, le scadenze più lontane dovrebbero rendere di più delle scadenze più vicine. Sul decennale stessa cosa ovviamente, perde perché il rendimento si è impennato, nonostante comunque dopo il meeting di giugno ci fu questo rally, quindi una compressione del rendimento, una percezione di maggior sicurezza. Sul due anni il movimento è ancora più violento perché è difficile che ci sia un'inversione di politica monetaria importante con scadenze così brevi. O se c'è, questa inversione non avrebbe un impatto importante quando la vita residua arriva a 5, 4, 3 anni, perché appunto questi qui dovrebbero morire dopo due anni. Poi questo è un future continuo, è un altro discorso comunque. Tutto questo per far vedere che l'obbligazionario fa nuovi minimi, l'azionario ancora sta reggendo e a questo punto si possono dare alcune interpretazioni. L'azionario sta reggendo perché è sceso troppo e quindi il prezzo che si va a pagare qui è adeguato per i fondamentali delle aziende. Andando poi a farsi un bel discounted cash flow con le stime, i tassi di sconto che saranno più elevati a causa dell'incremento del costo del denaro. Oppure c'è il rischio che il mercato azionario sia non intelligente e anticipatorio come quello obbligazionario, sia un po' indietro e speri in qualche rimbalzo, in qualche salvataggio che però non è detto che arrivi. Nell'azionario c'è il solito bias, la solita tendenza ad essere sempre long e a comprare anche quando non è saggio comprare. Qui siamo in un downtrend abbastanza palese chiaro, massimi relativi sono sempre più bassi, qui vediamo se ci sarà un minimo relativo più alto. La situazione non è certamente positiva. Se uno crede che sia come nel 2020 o nel 2021 si sbaglia di grosso ecco. Personalmente per trasparenza vi dico che purtroppo sono long anch'io, con una porzione ridotta del mio capitale, nonostante tutto non farò acquisti e non farò vendite importanti, a meno di sconvolgimenti nei prezzi. Sono tranquillo ma non sono fiducioso riguardo a ciò che potrebbero essere i risultati del mio portafoglio nelle settimane a venire. Ci sono alcuni catalyst, alcuni driver che potrebbero aiutare me e gli speculatori di breve che sono long, però non è detto che tutto ciò si materializzi. VIX future è altino ma non è altissimo e comunque siamo sotto ai livelli di giugno. VIX elevato può essere utilizzato come segnale, come simbolo più che altro, di vicinanza ad un minimo e dunque da un minimo diventa più semplice e banale fare una performance positiva quando si va long. 2020 VIX future è esploso quasi ad 80, 2018 siamo andati a 32, io penso che se e quando ci sarà una vera esplosione sopra i 40 o i 50, quello sarà veramente il momento di andare long e scordarsi un po' tutto quanto. Qui adesso c'è una speranza di questi mercati che sperano che le cose si rimettano in sesto, però è troppo presto ancora secondo me. Nel brevissimo ci saranno degli intramezzi con Bear Market Rally che sarebbe la mia speranza per uscire in positivo, però nel medio per come si sta mettendo l'economia, per come si sta mettendo la politica monetaria della Fed, la direzione secondo me è ancora giù. Valute abbiamo il dollaro estremamente forte ed è quello che secondo me ha fatto crescere molto la spavalderia di alcuni investitori europei, nel senso che si vedono delle perdite ridotte grazie al cambio, non perché sono stati particolarmente bravi nell'asset allocation. Euro-dollaro siamo a 0,97, forse anche più giù, 0,96, di sotto la parità, la sterlina anche lei perde abbastanza, venerdì 23 è stato diramato questo comunicato, nuovo piano per la crescita, dovevano aumentare le tasse per le aziende al 25% ma manterranno il tax rate al 19, più altre politiche tali per cui non verrà aumentata l'aliquota per i redditi più elevati. Dopo questo annuncio si è impennato il rendimento sul decennale inglese, da 3,43 siamo andati a 3,81, quindi molto esteso come movimento. Ha perso anche il loro azionario, anche se da inizio anno non fanno malissimo, quindi bisognerebbe vedere se dopo questo calo della sterlina e questa impennata nel rendimento delle obbligazioni inglesi magari c'è una qualche opportunità. Decennale italiano, siamo saliti al 4,36 di rendimento, come ben saprete domenica ci saranno le elezioni. 4,36 può sembrare alto, in realtà siamo venuti da un'inflazione superiore all'8%, le aspettative di inflazione forward a 10 anni saranno attorno al 2%, poi sono aspettative, non è detto che si materializzeranno, ma comunque non sembra elevatissimo questo 4,36, è chiaro che fa spavento e non è più tipo il 2011-2012 in cui ogni volta al telegiornale parlavano di spread, spread, spread. È chiaro che ho un rendimento sul decennale più basso che alto, però non so se sia così allarmante a 4,36. Sicuramente preoccupante ma non da essere terrorizzati. Datti della prossima settimana, martedì, usciranno i prezzi delle case a luglio, il mese precedente. Il dato ha segnalato una variazione positiva del 18,6% sui prezzi delle case, quindi l'immobiliare in America tira mentre l'azionario no. E questo è un po' un problema, in quanto in America la casa è un asset inteso come bancomat, perché all'apprezzarsi della casa gli americani utilizzano il reverse mortgage, quindi una sorta di prestito vitalizio ipotecario, dove metti come collaterale il prezzo teorico della casa sul mercato, ti danno una linea di credito, paghi mensilmente gli interessi, però finché il prezzo della casa si apprezza più velocemente del tasso a cui sei indebitato, tu sostanzialmente hai soldi gratis. Il giochino si interrompe quando i prezzi delle case scendono, dunque ti ritrovi un debito abbastanza elevato che non sai più come pagare, perché non è che hai dei flussi di cassa per pagare. A quel punto cosa fai? Estingui questa linea di credito, non hai più questo bancomat virtuale, e dunque non puoi più consumare come prima. E questo, secondo le banche centrali, andrebbe a frenare l'inflazione. Questo è un fenomeno che si osserva maggiormente tra la classe media, in quanto il patrimonio della classe media è più collegato al settore immobiliare che al mercato azionario, quindi la priorità delle banche centrali, teoricamente, non è quella di far crollare il mercato azionario per domare l'inflazione, ma è quella di far crollare il mercato immobiliare per domare l'inflazione. Quindi la speranza è che da 3,97 si scenda, qui potete benissimo vedere come la pendenza di questa curva è molto più aggressiva dal post-covid. Poi adesso ha fatto anche notizia il fatto che la rapper Cardi B, 24 milioni di follower, si sia messa a parlare di queste cose. I tassi saliranno in due settimane, era 16 settembre, gli affitti sono elevatissimi e non c'è inventory on homes, cioè non ci sono case costruite e in vendita per noi potenziali acquirenti che vorremmo avere una proprietà, così in un certo senso riduciamo le nostre uscite per gli affitti o per altro. Quindi è stata ripresa sul time e altrove. In ogni caso un mutuo trentennale a tasso fisso in America adesso si stipula al 6,56% annuo. Ritornando al calendario economico, mercoledì si vedrà quanti hanno fatto le iscrizioni ai programmi per gli MBA, vedremo le scorte di petrolio. Il petrolio nel frattempo è sceso e non di poco sotto gli 80 dollari al barile. E anche qui diciamo che per le azioni dovrebbe essere positivo, ma anche per le obbligazioni, in quanto sappiamo che l'energia è una grossa componente nel paniere del CPI, anche se però, come ho fatto vedere in un altro video, non è quella l'inflazione che in realtà guardano i banchieri centrali. A questo punto bisognerebbe interrogarsi sul motivo per cui il prezzo dell'energia è così basso. Da un lato dicono che sia dovuto all'utilizzo da parte di Biden e del governo delle riserve strategiche in modo da tenere bassi i prezzi e quindi ingraziarsi l'elettorato per le elezioni di midterm che si terranno a novembre. Dall'altro lato il timore ancora più grave è quello di una recessione che è praticamente ovvia e scontata. Ciò che non è scontato è se questa recessione si dovesse trasformare in una depressione. Andamento simile per la benzina, gas naturale per l'elettricità è sceso. Adesso vedremo con l'apertura dell'impianto di liquefazione a Houston se cambierà qualcosa, sia per il prezzo del gas in America sia per quello in Europa. Giovedì potrebbe cambiare qualcosa con i dati sul PIL, i dati sulla disoccupazione, i dati sull'inflazione. Quindi secondo me giovedì ore 14.30 italiane si potranno vedere dei grossi movimenti sia al rialzo che al ribasso e probabilmente potrebbero anche dettare la price action dei giorni o addirittura delle settimane a venire. Venerdì poi ci saranno i dati sull'inflazione e dati su scorte di prodotti agro. Quindi questo è quanto per il calendario economico. Giovedì e venerdì giornate importantissime. Trimestrali prossima settimana abbiamo Nike. Giovedì dopo la chiusura aveva sorpreso tre mesi fa con la trimestrale il 27 giugno e poi reazione del giorno dopo. La valutazione non mi convince, anche se a livello di settore, di marchi e tutto può avere un certo senso. Micron anche lei giovedì 29 con la trimestrale. Semiconduttori fanno delle memorie. Ci saranno diversi nomi collegati, ad esempio CLAA o LRCX, LAM Research, forse anche Applied Material. Sicuramente due trimestrali che possono darci indicazioni sullo stato di salute del consumatore e su percezioni del top management riguardante questo stato di salute. Bakery Ux siamo in campo energy, macchinari per fare estrazione di petrolio. Anche qui può dare qualche indicazione. Settimana appena trascorsa c'è stata la trimestrale di FedEx che ha ceduto in settimana il 7% dopo essere venuta da un oltre meno 20 di venerdì della settimana precedente con il profit warning. La trimestrale uscita non mi è sembrata così pessima, però è chiaro che in un contesto di sell-off generalizzato non vai neanche a sperare in una certa forza relativa. Altri nomi non è che ci fossero grosse notizie. Amazon meno 8 senza news mi pare, Tesla meno 9, settore energy abbiamo visto che è sceso il petrolio abbastanza, tiene Apple, tiene Elilili, le solite due ultradifensive stra preferite dagli investitori. Prima o poi bisognerà comprarci delle put che costano poco perché non hanno senso alle valutazioni odierne. Pfizer meno 4, non ricordo se è stata questa settimana o la precedente che in America è stata dichiarata alla fine della pandemia. C'è stato un upgrade o comunque una buona performance giornaliera con un più 3 più 4% per diversi di questi nomi nel settore healthcare. Settore banche male 7% generalizzato tra Bank of America e JP Morgan, Payments Mastercard meno 7%, Paypal meno 7%. Vabbè, li vedete benissimo anche voi, è inutile che stia qui a tirarla troppo per le lunghe. Come sempre massima cautela soprattutto per la giornata di giovedì. Grazie per essere arrivati fin qui, ci sentiamo presto, un abbraccio virtuale, ciao ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.